Lei Ok Edoardo, guarda la fase interessata di Edoardo, mi piace Dio sei, bella eh Non mi stai facendo? Due, allora cosa fate con quel pazzoletto? Italia 1 Ti avrebbe voglia Gianluca di andare fuori a camminare in mezzo della nebbia? Mostro Sempre piaci bene quella cantante E tu? Come si fa? Dove vuoi fare?